Hello, here is Wangu. We are a multinational corporation specializing in the catering and hospitality industry, with over 50 years experience. For all your restaurant needs, in our channel, many solutions for you. Follow us now. Look at the video to learn how to cook and taste a different type of local cuisine. The bread of meat is of course a morbid and sour. A good bistecca doesn't need to be complicated. But a good bistecca has enough flavors. So the bistecca is really easy to cook. How easy is to cook? 1. Scaldare la padella fino a che non fuma. Poi aggiungere audacemente la bistecca salata grossolanamente. Girate la bistecca una volta ogni 30 minuti. Poi aggiungete un pezzo di burro per farla sciogliere e insaporitela con timo e aglio. E continuate a friggere finché non è saporita e tenera. Ecco due consigli. Primo. L'olio deve essere caldo. Secondo. È meglio usare sale grosso. Il sale grosso si integrerà lentamente nella consistenza della bistecca man mano che la temperatura sale nella padella. In modo che la carne abbia una sensazione più stratificata o tilde. Il prossimo è questa ricetta di bistecca zero errori. Ingredienti. Bistecca. Burro. Asparagi. Broccoli. Timo. Sale marino. Pepe nero. Aglio. Metodi. 1. Scongelare la serra di bistecca e scolare il sangue con carta da cucina. 2. Cospargere di pepe nero e sale marino su entrambi i lati e marinare per un po'. 3. Pentola acqua calda bollente. Asparagi. Broccoli blushing stand by. Pesce fuori a raffreddare. 4. Scaldare la padella fino a quando non si fuma. Aggiungere la bistecca e cuocerla per 30 secondi su ogni lato. 5. Aggiungere un pezzo di burro per soffriggere. Timo e aglio a piacere. 6. Girare la bistecca e continuare a friggere. 7. Spegnere il fuoco per svegliare la carne. Sbollentare prima le verdure nella padella e friggerle. 8. Cospargere un po' di sale marino e pepe nero fuori dalla pentola. 9. Servire su un piatto e gustare.